La notizia è arrivata poco dopo mezzogiorno. Due uomini, padre e figlio, sono morti in un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina presso la DDOSRL, azienda di prodotti ITC Bicegliese, ubicata nella zona industriale di Molfetta. I due uomini, entrambi di Bitonto, lavoravano per un'azienda di pulizia esterna. Stando alle prime testimonianze, pare che i due uomini siano morti nel tentativo di soccorrere un secondo figlio, anche lui al lavoro per la stessa azienda che stava pulendo una cisterna. Quest'ultimo è stato rianimato e trasportato d'urgenza in ospedale dagli operatori del 118 intervenuti sul luogo dell'accaduto. Sul luogo sono già giunti il magistrato Mirella Conticelli, il vice sindaco Bepi Maralfa e l'assessore Belifemine. Quanto accaduto questa mattina rimanda alla triste vicenda della Track Center, azienda a distante poche centinaia di metri dal luogo della tragedia di oggi, dove cinque operai morirono proprio mentre pulivano una cisterna.